e lo spazio intorno a noi. Il cristallino perde la sua trasparenza. Ma cos'è il cristallino? È una piccola lente posta dietro la pupilla la cui funzione è di far convergere i fotoni sulla retina ed è responsabile della messa a fuoco. Se il cristallino diventa opaco in modo uniforme sarà attraversato solo da pochi fotoni e la vista progressivamente calerà con possibili alterazioni della visione dei colori. Se solo una parte del cristallino diventa opaca la luce può essere distorta specialmente durante la notte per esempio manifestandosi soggettivamente durante la guida. Se solo la parte centrale, cioè il nucleo, a diventare opaco può manifestarsi nell'occhio affetto uno sdoppiamento nell'immagine. Il trattamento della cataratta è sempre chirurgico e consiste nella sostituzione del cristallino. Nella maggior parte dei casi il chirurgo procede nel modo seguente. All'inizio della chirurgia l'occhio viene riempito di una sostanza viscoelastica la cui funzione è quella di proteggere i tessuti oculari in particolare la cornea e di creare spazi di sicurezza. Il chirurgo procede all'asportazione della capsula anteriore procedura che prende il nome di capsuloressi. Usando un faco emulsificatore ad ultrasuoni avviene la polverizzazione ed aspirazione del contenuto del cristallino mantenendo intatta la capsula posteriore. Viene dunque impiantata una lente intraoculare dotata di anze che ne garantiscono la stabilità il cui potere diottrico viene precedentemente calcolato per mezzo di un ecografo tecnica di biometria. Dopo aver lasciato la clinica lei metterà delle gocce negli occhi il nome del collirio la frequenza delle medicazioni e la durata del trattamento saranno definiti dalla prescrizione iniziale. La sua visione migliorerà progressivamente nei giorni successivi all'intervento e nella maggior parte dei casi la visione ottimale arriva circa un mese dopo la chirurgia. Dopo aver lasciato la clinica sarà in grado di leggere guardare la televisione camminare e svolgere le normali attività fisiche. Per i primi 15 giorni successivi all'intervento dovrà attenersi a tre semplici precauzioni. 1. Niente deve toccare il suo occhio Un trauma diretto può provocare riaperture della ferita e quindi è controindicato praticare sport. Indossare occhiali da sole protettivi può evitare contatti casuali o involontari. 2. Il suo occhio non deve essere sottoposto a stimoli irritativi Attenzione al sapone allo shampoo e evitare le piscine. 3. Eliminare tutte le possibili fondi di infezioni Evitare i colpi di freddo e gli ambienti infetti. Una infezione oculare è una complicanza molto seria e necessita di trattamento di urgenza. Se si manifesta rossore o dolore oculare o un improvviso cao della vista contatti immediatamente il suo oculista di fiducia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.